All'autogrill di Borgo Trebbia, la polizia stradale e le volanti del 113 sono intervenute per fermare alcuni giovani che in più occasioni sono stati sorpresi mentre scavalcavano la rete o si introfolavano in un varco del tornello per accedere all'area di servizio dopo la serata nella vicina discoteca. A far scattare i controlli sono state le segnalazioni dei cittadini riguardo questi ragazzi che disturbavano i camionisti in sosta e il personale al lavoro, con il timore anche che complice l'alcol qualcuno di loro potesse finire in mezzo all'autostrada. Inoltre, da mezzanotte alle prime luci dell'alba, due pattuglie della polstrada di Alessandria Ovest hanno presidiato il cancello che separa l'area di servizio Trebbia Nord da strada della Guzzafame e una pattuglia della polstrada di Piacenza ha presidiato l'area di servizio Trebbia Sud e l'uscita al casello di Cassa San Giovanni. Lungo la via Emilia Pavese, 15 automobilisti sono stati sottoposti da alcol test, due di loro sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Alle 4 di notte, a poche decine di metri dal punto in cui erano in corso i controlli di polizia, il conducente di una Golf, mentre percorreva via Talomoni, ha perso il controllo dell'auto che è finita nel canale. Fortunatamente tutti illesi gli occupanti del mezzo. L'uomo al volante è stato sottoposto all'alcol test e denunciato per guida in stato di ebbrezza.